Secondo l'ultimo rapporto del World Economic Forum, ancora per 136 anni, le donne guadagneranno meno degli uomini, saranno più facilmente licenziabili, avranno un minore peso politico e saranno svantaggiate a ogni livello sociale. Vogliamo davvero aspettare fino al 2158, per cancellare questo indegno divario e per liberarci dagli odiosi stereotipi di genere. Possiamo e dobbiamo fare prima. Perché ogni donna sia trattata sempre con rispetto, giustizia ed equità. E soprattutto facciamolo insieme. Donne e uomini. Perché un mondo migliore può nascere solo se impariamo a essere diversi ma uguali. E insieme.